E' chiaro che gli imprenditori devono sapere imparare da questi momenti e migliorare le proprie performance all'uscita di queste crisi. Come non è sempre così semplice, però bisogna cercare assolutamente di riuscirci. Io credo che guardare alla televisione, il giorno dopo andare in ufficio e fare le stesse cose che si sono sempre fatte non sia la scelta giusta. La scelta giusta è cercare di fare qualcosa di diverso per ottenere anche dei risultati diversi. Molto spesso questo almeno è l'insegnamento che le crisi ci danno, che ci portano, perché altrimenti non servirebbero a nulla.